Ciao a tutti, sono Gianfranco della comunità Marco Riva, ci occupiamo dal 1987 del recupero e inserimento di ragazzi tossicodipendenti a Bustarsizio e siamo una realtà presente sul territorio con diversi ragazzi anche della nostra zona che hanno fatto il percorso qua da noi. Sarebbe bello che la nostra esperienza potesse continuare anche nei prossimi anni in maniera sempre più ampia e più approfondita, per questo abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di altri volontari e se siete interessati venite a trovarci, qua trovate tutti i nostri riferimenti, ci troviamo a Bustarsizio.